dei reglietti. Il Kelly College è a 20 chilometri da qui. Ti porto in un attimo. Dobbiamo occuparci del presidente. Io sono pronta. Quindi puntiamo al capo dei reglietti. Grazie a tutti. Hai messo Cernenco in isolamento. Precauzione. Può essere infetto. Bene. Hai idea di quando chiuderemo l'affare? Ma che cazzo ne so. Kiner dice di star pronti e tener d'occhio la risorsa fino a nuovo avviso. Tu e i tuoi boy scout dovrete aspettare. Come sai che non vuole fregarci? New York è casa mia. Se vuole fottermi farà una brutta fine. Per ora? Sono qui per assicurarmi che faccia il suo. Mi sembra un piano piuttosto debole, francamente. Non te l'ho chiesto. È quello che penso io. Sì. Ma non è dei nostri. Quassù, agente. Sono qui per aiutarti. Eccoci a Coney Island. Si dice abbiano i migliori tappi di acqua salata al mondo. D'accordo. C'è un rifugio poco più avanti. Dovresti trovare l'ingresso sotto la passerella. Sarà la tua base per questa operazione. Quando sei pronto per avviare l'operazione, raggiungi Anderson Walk. Dovrebbe essere proprio sopra di te. Ingresso in area sicura. Hai finito? Sì. Bene. Dobbiamo parlare del tuo prossimo progetto. Per favore, signor Kinner. I risultati degli ultimi esperimenti sono già stati abbastanza tragici. Non mi faccia più fare niente del genere. Oh no. Vitali. Mi hai freinteso. Mi... Mi ucciderai? Vitali, certo che no. Ti lascerò andare. Davvero? Ho trovato chi ti terrà al sicuro. Hai fatto un lavoro davvero eccezionale e c'è chi apprezza molto. Chi esattamente? Ok, agente. I Black Tusk tengono Cernanco rinchiuso in una cella all'interno del campo da baseball. Non c'è modo di non farsi localizzare. Ma ti guiderò meglio che posso. Per arrivare al campo, devi passare per la pista dei go-kart. Avrai compagnia. C'è una pattuglia. Radio nemica intercettata. Sumner, signore, gli attenti della divisione cercano di sfondare il perimetro. Bene, occupatene tu. Protetti l'obiettivo. Sì, signore. Tutto sotto controllo, Sumner. Just. Ci penso io. Grazie. Dispositivo portatile rievato. Non pesa. Non pesa. Non pesa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sotto il fuoco pesante. Grazie a tutti. 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 Come va il perimetro? Siamo al sicuro? Ci provo, signore. Non basta. Sigillalo. Occhio a tutti. Occhio a quella torrenta. No. 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 Grazie per la visione! 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 Se resti in quella posizione sarai fuori dalla loro gittata, ma ci sono dei nemici vicino alla passerella. Eliminali per mettere fuori uso il mortaio. Sistema di puntamento rilevato. Se l'ISAC riesce a collegarmi col sistema di lancio, dovrei poter controllare i mortai da qui. Connessione al sistema di puntamento. Ok, bene così. Signore, il nemico sta provando a prendere il controllo dei mortai. Ucciditi. O giuro che io uccido te. Signor Z. Qualunque cosa accada, gente, fai in modo che l'ISAC completi la procedura. Sistema di puntamento rilevato. 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 Moni- M murderer. Cuore di puntamento. Perché è un'Histpo. Grazie a tutti. 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 Agente a tutti. Agente a tutti. non permette a tutti. e a tutti. tengo a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Sistema riattivato. a tutti. agente. Agente. Si trova lì, nella camera di detenzione. Non si trova lì, non si trova lì. Non si trova lì. Non si trova lì, non si trova lì. Non si trova lì, non si trova lì. Non si trova lì. Non si trova lì, non si trova lì. 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 Grazie a tutti. 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 Non credo di ridare il tuo aiuto. Ciò che ho fatto... cioè, che Kider mi ha fatto fare... grazie. Esplosione! Ci siamo! Polverizziamo i Black Tusk! Ci ha fregati! Stacco i purificatori! Signora, Kiner è vicino. Il suo segnale radio arriva da dentro il parco. Forza, tutti! Uccidiamo quella merda! Grazie a tutti. Grazie a tutti.